Vi auguro una dolcissima notte. Il messaggio è è ora di divertirsi. I delfini conoscono l'importanza del gioco perché la gioia fa cadere miracoli e manifestazioni. Questa carta indica che ti sei affaticato e hai lavorato troppo, perdendo il tuo obiettivo iniziale. Ti stai sforzando più per abitudine che per seguire una direzione ben definita. I delfini ti chiedono di fermarti un attimo e di concentrare le tue attenzioni su altro, attraverso lo svago e il gioco non competitivo. La giocosità di qualsiasi tipo darà una scossa alle abitudini ormai consolidate, facendoti inquadrare le cose nella giusta prospettiva per distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è. Il gioco è una magica forma di meditazione perché apre il chakra del cuore e permette alle tue creatività di entrare in contatto con la saggezza divina. Se il tuo svago prevede attività fisiche all'aperto, l'ossigeno entrerà, ti farà venire in mente nuove idee. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte.